guarda cerco di puntare andrei fai il video guarda ce l'ho fatto puntando è un hacker ma è bellissimo cazzo voglio vedere aspetta che muore ma è solo lui che è un hacker ah ma l'ha ammazzato come l'alga guarda prendete qualcosa di potente eh ma tutto non sta più facendo un cazzo eccolo dei flasher sta volando con il fujin sta fluttuando ve lo giuro sta fluttuando fai il video andrea si si lo sta facendo ecco il fujin c'è su con la banana oh dove cazzo arrivare sotto terra sta sotto sciamo no ma mi compare in faccia aspetta che mi spari mi sta sparando mi sta sparando no no vabbè ragazzi non mi capita vabbè fa il video lo facciamo bannare dai no come lo facciamo bannare lo voglio fare anche io ci dobbiamo unire all'order lo dobbiamo far bannare ma mi ha sparato da sotto guarda che madonna che madonna quasi quasi ma lo continuo a seguire da da morto voglio fare così lo seguo da morto vai mi ha seccato un po' sta sparando anche a me sta sparando da sotto ma sta sparando a me o vengo a giocare per vincerla che dite? ok vengo a giocare per vincere bui walk non si riesce a colpire chiaramente perchè lui spara no proprio lui no poi ci sta quello stronzo il problema è che non ci faranno catturare mai oh ma di che clan è? ah a me mi sta sparando proprio addosso da sotto eh vabbè così ma a me io ce l'ho proprio incollato al culo ci mettono pure gli avversari di essere comprensivi di essere comprensivi quelli i tuoi amici suoi tutti d'accordo è tutto un complotto sono figli di puttana tutti nella stessa grossa i morti i morti e mi spara vabbè nel senso che rientrate stiamo vincendo? ho rientrato che sfizio ci sta? oh non lo so non lo so lo saranno dei bambini bambini no i bambini ne fanno sta cosa e come ne fanno e come ne fanno ragazzi oh ci sto facendo fuori il catturato al centro please oddio cosa mi è arrivato sto andando però c'ho questo che mi spara l'ultima robot l'ultima robot vogliono ricatturare al centro sta sfondando eh va dai al centro eh dobbiamo cercare di andare in superiorità numerica se vogliamo vincerla sto seguendo e vabbè ma hai rotto il cazzo cioè questo ce l'ho sempre sotto al culo ok catturato al centro please sta seguendo ma non mi farà prendere anche il raggio ma non riesco a prendere il raggio ma io lo farei bannà sinceramente certo però ciao bannà però io vorrei più sapere come ha fatto come ha fatto anche in forma di hack avrà usato come cazzo si chiama quel cazzo di cosa che lo possiamo chiedere a Daniel san perchè da noi sono hanno bannato per hacking un po' vero si 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 no lo facevo anch'io lo confesso si lo faccio per lui in carlito ok andiamo a giocare ma poi dalla fine vediamo ti ricordi dan se ci dici che hack che hack stai usando ah mamma mia che provano l'ho presa a sfinimento io guarda per quanto vanno sfinito le palle una scritta se ci dice che raga ma stanno sparando pure dal cielo ora guarda guarda che sto a parte no stanno sotto sicuramente starà usando chat engine cellulare o sul computer no sul computer lo voglio anch'io allora sta fuori non mi piace più giocare così voglio giocare con i suoi min che cosa gli faccio a quel griffin ecco eh ma ti sta spaccando non mi spara 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 ti sparano da no oi ce l'ho fuori no 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 c'è tornata sotto attento ce l'hai addosso eh non dispare salta ma secondo me è rimasto bloccato là sotto non si ha risalito ma secondo me pure non credo forse solo questo sarebbe un caso ma visto che pure prima ha avuto la super velocità tipo come adesso però prima non ci sono finalmente qualcuno l'ha abbazzato vai Tony è rimasto solo Tony siamo finiti oh un altro ricomparto i nuovi in faccia a Tony guarda l'ora è già dove cazzo sto usando questo e c'è Tengine dove cazzo è Fletcher eccolo wow ma non so neanche giocare ma cosa vai addosso ma lo vogliamo invitare ma vai contro uno che allettaron cioè vai contro uno che allettaron con la distanza con Gekko e Zeus ma che cazzo cioè non sa proprio giocare no 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 qui c'è anche abbastanza coglioni peccato però ragazzi aspettiamo giusto due secondi che se saltiamo di becchiamo di morto ma è stato divertente si ha fatto un sacco di punti guarda questo tedesco c'ha soltanto 400 vittorie già l'avranno bannato qualche altra volta ma Corvo si deve cambiare giusto 9 9 grazie a tutti